ecco fate la foto se la man... ah, al fine mi vedo eh sì sì postiamo se... manchete se a voi è andata la carta di rivelamento in questo caso poi ve l'ho bypassato questa cosa mi porterà su questa pagina ci sono vabbè cosa bisogna spiccare e cliccare... c'è anche la il menu per inviare la richiesta d'aiuto e abbiamo solo una sì, l'arrappamento del movimento le togliamo noi non so non so non so ma non so non so ma non so 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 ma dobbiamo... aspetta però non so 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 non so